I ristoranti del Sefe sono il vostro punto di riferimento culinario sul lago. Mette apprezzatissime ed ambite da buon gustai e gourmet, i loro nomi figurano tra i primissimi indirizzi della buona cucina in Carinzia, consigliati dalle guide più accreditate. Le creazioni dello chef de cuisine Richard Hessel e del suo staff sono state premiate da Gourmet You, a la carte gourmet, e della Falstaff VIP Gourmet Guide. Tra il ristorante Gourmet La Terrasse con terrazza sul lago, il ristorante Portobello con piattaforma direttamente sull'acqua, il ristorante Orangerie con fantastica vista sul lago Ebar Schlossfahr, con le migliori Annad e i più nobili distillati. La scelta risulta davvero ardua.